le grandi brand della moda si facciano da parte le sneakers più desiderate del momento costano solo 12 euro e 99 sono le sneakers lidl sono gialle rosse blu e sono in edizione limitata sono talmente desiderate che appena esaurite le scorte nei supermercati online è partito il bagarinaggio qualcuno le rivende a più di 350 euro che scandalo come è possibile che la gente sia disposta a pagare così tanto per delle scarpe che valgono così poco come è possibile che un oggetto così kitsch sia diventato un oggetto così desiderato cool come è possibile che anche noi italiani gente glamour fashion siamo caduti preda di un oggetto così cheap ma soprattutto come è possibile che tanti esperti di marketing si pronunciano sui social solo per gridare allo scandalo o al popolo bue o ai social media corruttori delle generazioni y e z facciamo che mi pronuncio anch'io ma sì dai tre parole chiave scarsità brand e classifica scarsità vi ricordate quando i nutella biscuits erano così scarsi che tutti li cercavano ed è partito il bagarinaggio online sì ve lo ricordate bene allora ricordate che lanciare un prodotto in edizione limitata fa impennare il suo valore percepito scatenando tutte le 50 sfumature di grigio nero rosso dell'emotività umana perché le leve di scelta d'acquisto non sono razionali sono emotive numero due brand qual è il tratto distintivo delle sneakers lidl il colore del logo lidl giallo rosso e blu queste sneakers non sono un prodotto sono un pezzo della brand lidl e la brand vive di valori immateriali emotivi perché le leve di scelta d'acquisto non sono razionali sono emotive numero 3 classifica chi sta sui social vuole scalare la classifica di chi o cosa è cool sui social quindi quando qualcosa inizia a diventare cool e virale anche un paio di scarpe della lidl ti ci attacchi per scalare la classifica e le sneakers diventano ancora più cool e ancora più virali e via così perché anche le leve del successo virale non sono razionali ma sono emotive quindi sneakers lidl imitare o evitare imitare imitate la lidl che ha fatto leva sulle componenti emotive della brand per attivare le leve d'acquisto che ormai lo sapete non sono razionali ma sono emotive vi do un consiglio per riuscire a imitare l'idl evitate gli esperti passivi e circondatevi di esperti attivi come li distinguete beh quelli passivi parlano solo per scalare la classifica di ciò che è figo cool sui social quegli attivi non si limitano solo a parlare ma si mettono anche a spiegare e magari anche a dare consigli sono paolo guglielmoni fondatore del metodo di advertising circolare vi ringrazio per aver guardato il mio video e vi chiedo cosa volete che non vada sprecato